Abbiamo la nazionale, siamo alla vigilia dei mondiali e vediamo se i nostri corridori riusciranno a trovare la miglior condizione, anche se sarà una gara dura il mondiale. È una nazionale che ha già lo spirito di Davide Cassani? E' importante che riescano a entrare nel clima della corsa e che siano una squadra unita e che riescano a correre per cercare di fare un buon risultato.